Introduzione. Partirò con una nuova rubrica, che andrà ad integrarsi con le biografie dei serial killer, le classiche che hanno caratterizzato il canale dalla sua apertura fino ad ora. La nuova rubrica tratterà di spree killers, e mass murderers. Cercherò di essere il più sintetico possibile, nonostante a riguardo, gli psichiatri possiedono volumi da migliaia di pagine. La differenza tra serial killer, e spree killer, è ancora fonte di discussione tra psichiatri e tra criminologi. Ma riassumendo i due termini, il serial killer è un pluriomicida di natura compulsiva, che uccide solitamente persone con tratti comuni, quali l'età, il sesso, o la professione, o con specifiche preferenze verso bambini, donne, o uomini, in un arco di tempo prolungato. È sottolineata l'importanza del periodo intermedio, tra un omicidio e l'altro, il fatto che ogni evento omicida sia vissuto come emozionalmente distinto e separato. Mentre lo spree killer, o assassino compulsivo, è un assassino i cui omicidi avvengono in una rapida esplosione di violenza, in luoghi separati, che spesso si conclude con il suicidio dello stesso. Molto simile allo spree killer, è il mass murder, tradotto, omicida di massa. Gli assassini di massa uccidono quattro o più vittime nello stesso luogo e momento. L'esplosione di violenza, improvvisa o premeditata, si scarica su vittime casuali. Nella situazione più frequente, l'assassino soffre di schizofrenia paranoide, una psicosi caratterizzata da allucinazioni, deliri di persecuzione, atteggiamenti sospettosi. Si sente perseguitato, disprezzato. Vive in un mondo ostile dove tutti gli sono nemici. Si avvia verso una involuzione progressiva, che lo allontana dal mondo, imprigionandolo nelle sue fantasie. Nel periodo di incubazione, spesso, coltiva una immagine grandiosa di sé e si convince della propria superiorità. La vita perde significato e l'ideazione suicida si concretizza, ma la rabbia lo spinge a vendicarsi scegliendo modalità eclatanti per uccidere il maggior numero possibile di persone. Da persona inutile si trasforma in un dio.